Amici carissimi agrigentini della provincia, dei dintorni e della Sicilia tutta, io vi invito, vi faccio un invito molto affettuoso di venire a trascorrere con me la sera del 29 giugno, che è lì domani del 150esimo compleanno di Luigi Pirandello, una serata con me allo spazio Temenos di Agrigento alle ore 21, contemporaneamente ai 150 anni dalla nascita del vostro, nostro grande drammaturgo gergentano, io festeggio un po' più umilmente i miei primi 40 anni di carriera, onorata, disonorata, lo scoprirete durante quella serata. Parlerò sì anche di Pirandello, ma della mia carriera, dei tanti successi, di qualche dolore, molto anche dei tragici greci che insieme a Pirandello sono gli autori che mi hanno accompagnato per questi primi 40 anni. vi aspetto numerosi, generosi e affettuosi come sempre siete stati con me. Vostro Sebastiano Lomonaco, avrei potuto firmarmi vostro Luigi Pirandello.